L'inaugurazione di questa sede su Bergamo è un po' l'epilogo di un progetto nato già in seno al piano industriale di diffusione, quindi risale a più di un anno fa. Sicuramente è il punto di partenza per lo sviluppo dell'attività su Bergamo, così come abbiamo fatto a suo tempo su Milano. Io apprezzo molto il fatto che BCC Milano nel panorama degli istituti di credito che operano nei territori abbia mantenuto a 70 anni dalla sua fondazione lo spirito cooperativo che si porta dall'inizio. Grazie a tutti.